Jean Paul Acaiesu era il sindaco di Taba, piccolo comune a Rwanda e, nel corso di tutto il 1994, ha ordinato ai soldati dalla sua milizia personale di stuprare e uccidere più di 400 donne etni a Tuzzi, incitandoli a comportarsi nella maniera più violenta possibile, mentre lui salvava soddisfatto e compiaciuto. Le donne, torturate e uccise, venivano gettate in una fossa comune. Nel processo tenuto contro lui nel 1998, diversi testimoni hanno dichiarato che Acaiesu era un noto sadico che amava ogni forma di spettacolo violento. Pur non avendo notizia di omicidi compiuti immediatamente a lui, ha esercitato un'evidente influenza psicologica sui soldati, spingendo a comportarsi nella maniera più sadica e violenta possibile. Un tribunale internazionale ha ritenuto Acaiesu colpevole di genocidio e crimini contro l'umanità e lo ha condannato a tre ergastoli più 80 anni supplementari di prigione.